buon pomeriggio ragazze dal quel della nonnina come state come va noi qua se procediamo a singhiozzi a ansia e attacchi vari di panico per ulteriore classe in chiusura un motivo covid e quindi qua ogni giorno ha un'incognita chissà se domani andrà a scuola saremo in quarantena e va bene è tutto difficile è tutto problematico è tutto lungo mamma mia ragazze proprio un'annaccia un'annata brutta 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 sono stata quasi 25 minuti al telefono in due volte ha però per riuscire a parlare per prenotare una visita medica mia figlia tutto è complicato tutto è difficile veramente ha proprio un'annata un'annata difficile un'annata brutta oggi ho detto faccio un piccolo blog di aggiornamento perché non ho veramente il tempo di fare nulla ho passato queste ultime ultima settimana a riempire un po anni a dispensa fare un po di scorta perché qui dall'oggi al domani si finisce in quarantena una mia amica stamattina si è svegliata sua figlia fa la seconda media a un anno meno della mia si è svegliata per portare i bambini a scuola e sul cellulare aveva un messaggio arrivato alle 4 del mattino con su scritto di non portare la bambina di seconda media a scuola perché la sua classe è chiusa per quarantena così ok torniamo a letto giriamoci di là e così cioè poi i genitori non sono in quarantena quindi teoricamente il genitore potrebbe uscire no non commentiamo queste sono le procedure io non ho parola è una quarantena preventiva perché c'è un ragazzino positivo e allora facciamoci il tampone tutti quanti troviamo di subito sti positivi così almeno ce ne facciamo una ragione equetta equetiamo un attimino tutti quanti quindi niente per cui ho pensato che sia utile farsi un po di scorta in dispensa e perché qua non sappiamo come andiamo a finire io saluto volevo andare da mia mamma uno a prendere le castagne due il nostro suo albero di noci ha fatto tantissime noci che tanto lei non mangia perché non le piacciono particolarmente il mio orto sta facendo il costetto che io adoro e a tre euro a letto direi che me lo vado a prendere c'è pieno di cavoli non hanno ancora finito di fare zucchine noi abbiamo la nausea da zucchine ma ci sono li mangiamo e quindi volevo andare a fare la spesa bio a chilometri zero a casa di mia mamma ma anche lei mi dice ma vieni su mangi qua boh mamma boh te lo dico venerdì sera se venerdì non siamo in quarantena vengo mamma mia ragazze c'è veramente dura mia figlia oggi le ho detto non ti togliere la mascherina perché le superiori qua la mascherina la tengono obbligatoriamente alle medie la fanno togliere al banco e tengono le finestre aperte e quindi non ti togliere la mascherina gioia oggi è tornata dicendo mamma non ho tolto la mascherina e quindi ragazzi è tutto difficile io sinceramente non so voi ma non mi aspettavo che sarebbe durata così così tante non accenna a migliorare comunque vedremo cosa succederà ormai è tutto un vedremo cosa succederà in ufficio da mio marito su un suo collega era positivo quindi ora faranno tamponi tutti quanti mia figlia lo farà la prossima settimana perché questa è in didattica a casa quindi non può farlo e lunedì prossimo su rientro già e lunedì in più rientra a scuola è più samba il tampone nel naso e va bene va tutto bene è tutto normale quindi se ci mettono in quarantena io però posso uscire però ragazzi io non mi sento di uscire andare in giro se mia figlia può essere positiva insomma quindi mi sono fatta un po di scorta anche di frivolezze perché quando siamo stati in quarantena che c'era lockdown che nessuno poteva farmi la spesa mia sua c'era qualcosa portava però non è che le chiedevamo io mi ricordo che una volta le ho detto ti prego se ce la fai un succo di frutta la pera uno anche solo che uno avevo proprio un desiderio di un succo di pera da morire e quindi poverina mi ha portato il succo di pera tanto che ha fatto la spesa per lei però adesso in previsione anche di questo mi sono fatta la scorta anche tipo ultimamente ho voglia di bere la limonata e quindi mi sono presa anche della limonata da tenermi in casa perché non si sa mai per cui ragazze che dire niente siamo qui in ansia e una mamma va messo una vignetta su quegli stati di whatsapp che diceva è venerdì e anche questa settimana non siamo andati in quarantena lo considero un successo ecco cioè è così è così realmente è veramente così è venerdì non siamo andati in quarantena consideriamo un successo va bene ragazzi prendiamo quello che viene come viene andiamo avanti un saluto a tutti quanti